Sono diversi giovani interessanti. Qui la conclusione vincente da parte di Wilde, che fa capire le sue qualità. Sapere che lui c'è, ha contribuito ad avvicinare. Il parato finisce per terra, senza fallo Wilde, va a rubare palla a Fodor, prova di riscendersi ancora Wilde, calcio e porta Wilde, fa tutto da solo e porta il CMB su 6 a 4, un fenomeno. Con il sinistro dentro la paletta, buona per Wilde, che da due passi non può sbagliare, segna subito lui, 1-0 per il CMB. Lo avevamo chiamato in causa in apertura di Telecronica. Ancora da Sutton, ancora Wilde, la sblocca, sempre lui, il CMB. Trova l'1-0 all'undicesimo, con la rete numero 18 in campionato di Wilde. Poi va da Cesaroni, che ce l'ha su destra, dentro da Wilde! Eccolo qui! Arriva! Anche gol di Wilde, fa 3 a 0 il CMB. Perfetto, l'asse Cesaroni, Wilde. Buona Cesaroni, col sinistro e poi implacabile Wilde sulla ribattuta di Mamella. Col destro, 2 a 2! Di qua! Per Wilde! E il destro di Wilde! Sotto la traversa, chirurgico, 4 a 4! Il gegenpaccio, 4 a 2! Le odore superare... Piocare, pallone, pallone, tipo Punza, sinistra! Scuttiola, qualunque, un contagio! Lo c'è il dipinto, però lo siamo su 3. Ora in volta nel gioco del fumo del fumo del fumo. E' partito a sinistra cercando l'uno contro l'uno I Lolo, i giocatori Ancora la risposta è un gran gol di Wilde Dopo una splendida risposta di Mazzacchetti Un gol a posizione impossibile Un giocatore che ha visto Bago Scenici e i pazzeschi Come quella che ha fatto Mazzacchetti E' un gran gol di Wilde Che realizza un altro gol pazzesco Dove si è passata la palla è difficile da capire Sta di fatto in Wilde In un'altra categoria